Top Skills. Bruno Vettore indica la strada del successo attraverso la sua esperienza trentennale. Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati qui in studio per il secondo episodio di Top Skills. Voi lo sapete che non sono sola a condurre questo format perché al mio fianco c'è Bruno Vettore, uno dei maggiori volti del mondo del real estate italiano. Buonasera Bruno. Buonasera a voi e grazie molto di avermi accolto qui. Ecco, ci tenevo a precisare, non l'ho detto nella puntata precedente, che se da casa avete domande, richieste particolari, dubbi, potete contattarci sulle nostre pagine social, giusto? Assolutamente, assolutamente. Il profilo Instagram è Bruno underscore Vettore, Facebook Bruno Vettore, anche LinkedIn dove c'è un pubblico più professionale, oppure dal blog www.brunovettore.it. Perfetto, così per qualsiasi chiarimento potete contattarci. Nella puntata precedente abbiamo parlato delle skills, ovvero delle qualità, delle peculiarità che si devono necessariamente avere per essere dei veri leader sul mercato. E anche oggi proseguiamo con il nostro programma, con il nostro format, appunto, parlando delle skills professionali. Ci focalizzeremo su queste. Lei Bruno, tra l'altro, se non sbaglio, ha tenuto anche parecchi convegni, con più di 50 mila spettatori, ha una carriera alle spalle veramente interessante, l'abbiamo ricordato anche nella prima puntata, ma è sempre un piacere ricordare cosa lei ha fatto in passato. Sì, certo, diciamo, io sono innamorato del capitale umano, ecco, credo che la differenza la facciano sempre le persone, a prescindere dai settori, immobiliare, creditizio, sicurativo, finanziario, industriale. È sempre un tema di capitale umano che va valorizzato e la valorizzazione del capitale umano non è fine a se stessa, generalmente è in mano a un manager, a un imprenditore, a un professionista. Quindi credo che soprattutto nell'ultimo decennio le nostre attività abbiano risentito fortemente che dei cambiamenti, delle innovazioni, sia sul piano della comunicazione che dell'organizzazione. E quindi bisogna che chi ha ruoli di responsabilità abbia delle skills, delle skills personali, ne abbiamo già parlato l'altra volta, e professionali evidentemente dal punto di vista del settore. Abituandosi ad essere nel cosiddetto business del nono, chi ha responsabilità, un manager, un imprenditore, un professionista, non deve aspettarsi di essere atteso. Spesso deve convincere un cliente, spesso deve convincere un team a seguirlo, spesso deve convincere un'azienda ad assumerlo. E quindi deve portare delle skills, delle peculiarità, delle qualità, che devono essere estremamente adeguate ai tempi. Pensare che sia sempre un fatto economico, pensare che un servizio costi troppo e quindi il cliente non lo compra, o quell'azienda mi paga troppo poco e non ci vado, una visione troppo semplicistica. Gli aspetti economici sono sempre una conseguenza, i guadagni sono sempre una conseguenza, un cliente che ti sceglie o un'azienda che ti sceglie è sempre una conseguenza. Tu come manager, come imprenditore, come professionista, quanto vali? E c'è una statistica molto interessante che adesso proietteremo con una slide, che fa capire che devi partire da te. Questa statistica su un campione molto significativo dice che fondamentalmente un manager, prima di dire che non ha prodotti o che non è lui stesso interessante rispetto ai clienti o a un pubblico, deve chiedersi se porta valore aggiunto. Il 33% degli intervistati dice che non capisce il valore aggiunto che tu mi porti. Si tenga conto che gli intervistati sono aziende, clienti, quindi tu come manager, come persona, non capisco che valore aggiunto mi porti. Un'altra cosa, hai capacità di innovazione, differenziazione, il 38%, no, un altro 33% dice io non capisco tu che cosa porti sul piano dell'innovazione, non capisco nel 15% dei casi il plus che mi offri. Hai una comunicazione inefficace, i tuoi clienti non ti capiscono o io azienda non ti capisco. Quindi l'esortazione che io posso fare, insomma, in questo percorso che deve portarci verso il successo, no, che deve tirar fuori l'attitudine al successo è cerca di individuare il giusto approccio. Se tu sei un manager, se tu sei un imprenditore, se tu sei un professionista, il giusto approccio, qual è l'approccio giusto oggi nel 2021 verso il 2022, cerca di affinare la tua attitudine. Molte persone hanno cominciato il lavoro nell'ambito commerciale o nel loro settore molti anni fa. A volte l'esperienza è un valore, altre volte è una zavorra. Abbiamo sempre fatto così. Qui abbiamo sempre fatto così. Io faccio attività di consulenza e di formazione nelle aziende. La cosa peggiore, il peggiore approccio è, sì, guarda, Bruno, tutto quello che tu dice vale, però sai, noi siamo abituati così. Le abitudini sono il cancro dell'innovazione. La routine è la cosa più negativa che ci possa essere, ma non solo nel lavoro, anche nella vita. Le persone si lasciano travolte dalla routine. Quindi tu hai l'approccio giusto per il mondo di oggi, per il mercato di oggi, tu hai l'attitudine adatta e soprattutto tu hai un sistema di lavoro, hai una modalità interessante, cioè hai delle skills professionali, porti valore aggiunto. Le skills professionali sono quell'insieme di competenze tecniche adatti ai tempi. E quindi questo è molto importante. Quindi è un grande viaggio introspettivo. Anche perché spesso, mi correga se sbaglio, si pensa di attuare una strategia corretta, vincente, ma si possono anche compiere degli errori di autovalutazione, giusto? Assolutamente. E infatti ci sono alcuni elementi fondamentali, c'è una specie di decalogo, che prego la regia di mettere in video, fondamentale dal punto di vista professionale. Innanzitutto la capacità di sviluppare pensiero strategico. Cioè tu devi avere una strategia per un mercato, verso un'azienda, verso un mercato, verso un pubblico, verso un target, verso una audience. La vostra TV ha una strategia e il vostro amministratore delegato ha una strategia, no? E la sta mettendo in campo. Sapere utilizzare software, applicativi, specifici, non si può essere degli analfabeti digitali. L'analfabetismo digitale è un problema grosso. Si può imparare. La capacità di problem solving non può essere tutto strutturato, tutto organizzato e tutto prevedibile. I problemi oggi nelle aziende, nei confronti dei clienti, nei confronti del mercato, sono diversi di giorno in giorno. Quindi devi avere la flessibilità di risolvere i problemi che ti capitano oggi. La gestione del tempo. Molte persone si svegliano alle 7 del mattino già in ritardo. Nella realtà la gestione del tempo aiuta a guadagnare tempo. E fondamentalmente le persone credono che si debba lavorare di più. No, io dico che si deve lavorare meglio, che è tutta un'altra cosa. La capacità di lavorare nel cosiddetto teamwork, cioè lavorare insieme agli altri. Nessun uomo è un'isola, diceva uno scrittore molti anni fa. E tu necessariamente devi lavorare con gli altri, insieme agli altri. No, ma siamo nell'epoca digitale dello smart working. Ancora di più. Devi saper lavorare insieme agli altri quando li incontri. E anche addirittura a distanza, che è più difficile. Quindi deve avere delle capacità ancora superiori. E un'altra cosa, la capacità di parlare in pubblico. Il cosiddetto public speaking. Cioè l'abilità nel public speaking. Un manager deve saper presentare le proprie idee. Ma io dirò di più, sconfino un po' in materie che mi competono meno. Ma se mi si permette, anche un genitore deve avere la capacità di comunicare con i propri figli. Allora spesso ci sono problemi in comunicabilità. Semplicemente perché il genitore parla il suo linguaggio, che era quello che hanno utilizzato i suoi genitori con lui. Il linguaggio è diverso. È più rapido, è più veloce. Si usano termini diversi. Si usa un approccio diverso. E quindi non bisogna parlarsi addosso. Bisogna dire cose che interessano gli altri. E quindi il cosiddetto public speaking e storytelling, che è un'altra cosa ancora, è fondamentale. Devi avere la capacità di raccontare a un cliente, a un'azienda, a un fornitore, ai tuoi figli. Assolutamente sì, condivido. Ma cosa condiziona la scelta di un cliente? Stiamo parlando proprio di clienti. Si tratta sempre di aspetti prettamente economici? Non necessariamente. Gli aspetti economici sono un di cui, ma chi parte dagli aspetti economici parte dalla fine. I guadagni, la redditività, lo stipendio, il compenso, il prezzo, sono sempre una conseguenza di un valore. Un valore professionale, un valore personale. Quindi io direi che è fondamentale la capacità di portare innovazione e soprattutto differenziazione. Cioè ogni buon manager deve chiedersi, ma io quanto sono innovatore e soprattutto quanto sono differente da un altro. Le faccio un esempio pratico. Io lavoro molto nel real estate. A volte ho in aula centinaia di agenti immobiliari. Sempre straordinariamente tutti uguali, tutti molto simili. Tenga conto che dicono più o meno tutte le stesse cose. E allora alla domanda, ma scusami, ma perché un cliente dovrebbe scegliere te? E non qualcun altro. E non qualcun altro. Lei tenga conto che normalmente un cliente, prima di scegliere un agente immobiliare, ne ascolta almeno tre. È la statistica. Se tu non hai chiaro quali sono i tuoi elementi differenzianti, ma come puoi pensare che il cliente scelga te e non scelga un altro? Allora sceglie te solo perché gli fai pagare meno? No, mi sembra una politica un po' miope. Io credo che i professionisti, gli imprenditori, i manager o tutti coloro che offrono un prodotto o un servizio debbano farsi pagare molto. Nella realtà perché devono dare molto. Quindi devono avere elementi di differenziazione. La parola guida per un manager, un imprenditore, un professionista, ma anche un negoziante, ma se mi si permette anche una persona, è tu quanto sei diverso da un altro. Non puoi pensare di essere migliore, puoi pensare di essere diverso. E allora se tu sei diverso, troverai nella vita qualcuno da attrarre, a cui piacerai, e nel lavoro qualcuno che ti sceglierà. Come abbiamo parlato nella scorsa puntata di Personal Skills, qui invece ci stiamo concentrando sulle Professional Skills, ovvero le skills professionali. Sono skills che ci rendono sicuramente più performanti, giusto? Migliori e per raggiungere un obiettivo che è il successo, l'abbiamo detto prima. Come si può affrontare questo percorso al meglio? Ci vuole grande disponibilità, grande umiltà. C'è un decalogo che parte dalla positività e dalla flessibilità. Arriva all'empatia e alla disponibilità. Per arrivare poi allo studio, all'analisi, si tenga conto che spesso le persone che lavorano con un pubblico, si è su un pubblico interno o un pubblico esterno, sono molto egocentriche, cioè pensano di essere al centro. Concentrati sulla loro figura. Esattamente. Invece bisogna essere concentrati sulla propria figura, ma per metterla in discussione. Come dicevamo nella prima puntata. Esattamente, cioè la tua figura è importante, è fondamentale, l'asset principale di ognuno di noi siamo noi stessi, no? Ma non per, come dire, tesserne le lodi e l'immutabilità. No, proprio per verificare invece la disponibilità al cambiamento, il miglioramento. E lo dicevo anche, lo ripeto spesso, diciamo, ci sono due tipi di persone. Quelli che si accontentano di essere come sono, immutabilmente, e quelli che invece ogni giorno individuano, cercano, studiano, o generano, o provocano il cambiamento. Vogliono migliorarsi. Vogliono migliorarsi. E quindi, come dire, sul piano manageriale la capacità di migliorarsi, di proporti oggi, in maniera evoluta e diversa da ieri, è vincente. Lo vediamo anche, ne abbiamo esempi tutti i giorni, no? Anche le grandi aziende. Normalmente sono gestite da manager a volte adulti, ma sempre pronti al cambiamento. I manager di successo sono quelli che non si fermano sugli allori, sulle cosiddette rendite di posizione, che non esistono più. Esistevano negli anni 60, 70, 80 o 90. Adesso ogni giorno il mercato pretende di più, pretende un'innovazione, pretende una differenziazione. Cioè ti chiede di più. È una partita, è una competizione. Certamente chi si impegna e vuole migliorare rischia anche di vincerla. Ma quindi l'essere flessibili e il volersi migliorare, secondo lei, è questa la peculiarità per arrivare a successo e per essere un punto di riferimento sul mercato? Assolutamente. Innovazione e differenziazione. Ecco, abbiamo scoperto appunto quali sono le due caratteristiche fondamentali per essere dei veri leader, ma nelle prossime puntate tratteremo anche altri argomenti interessanti. Vogliamo anticipare qualcosa? Anzi no, non svegliamo niente. Lasciamo che ci seguino e che ci guardino. Quindi vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Top skills. Bruno Vettore indica la strada del successo attraverso la sua esperienza trentennale.